Dal 16 dicembre alvia in quasi tutta l'Italia la campagna vaccinale contro il covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. In Puglia il 2,1% dei piccoli ha ricevuto la prima dose e lo 0,7% in più rispetto alla media nazionale. Per quanto riguarda gli over 12 l'88% dei ragazzi pugliesi ha già ricevuto almeno una dose. In questo caso si tratta del 2,1% in più rispetto alla media nazionale. In molti genitori che pure si sono vaccinati sono sorti i dubbi e timori di varia natura sull'opportunità di somministrare i vaccini ai più piccoli. Ecco il parere di chi non ha avuto alcuna remora nel vaccinare i propri figli. Volevole a vaccinare i miei figli per evitare il contagio e ridurre i rischi da covid. Da genitore, da poco tempo diventato genitore, raccomando a tutti gli altri di far vaccinare i propri figli. Naturalmente intercorso un tempo congruo dalla nascita perché ove subentra poi il desiderio dei genitori di andare in giro, magari faccio l'esempio banale, a un ristorante o a un teatro dove c'è più di una persona vicina, non si deve correre il rischio di contagio e di far contagiare le altre persone. Noi faremo vaccinare il nostro figlio per due motivi. Il primo è quello legato alla fiducia incondizionata nei confronti della scienza e il secondo motivo è quello legato a una ragione di libertà e di rispetto per se stesso e per gli altri. Lo faremo al più presto perché è importante vaccinarsi proprio per dilagarsi ora di queste varianti e per tutelare la salute loro e degli altri bimbi che frequentano le scuole. Io sono nonna di due bambini e io penso che dobbiamo avere fiducia nel vaccino. Per somministrarlo ai bimbi sono stati sperimentati e poi dico anche vaccinare i bambini per proteggere gli adulti. Un amico medico pediatra mi ha quindi confermato la possibilità di proteggere i bambini da eventuali infezioni da covid al momento ha un vantaggio rispetto al non vaccinarli esponendoli a rischi importanti. Tuttavia non manca chi è preoccupato dalla vaccinazione dei più piccoli. A far paura sono le paventate conseguenze cliniche a medio e lungo termine. Abbiamo due bambini, uno di sette anni e uno di cinque anni. Abbiamo scelto di vaccinarli nonostante la paura perché ci sembra la scelta più giusta e più responsabile in questo momento. Io sono a favore dei vaccini in generale. Per quello contro il covid, secondo me per i bambini è meglio aspettare prima un altro po' di tempo e vaccinare prima tutti gli anziani e gli adulti e poi a seguire i bambini eventualmente. Come genitori siamo in una fase di discernimento ma la nostra intenzione è quella di seguire la linea che abbiamo seguito finora che è quella di fidarci della scienza, fidarci dei medici, dei pediatri. Insomma per alcuni genitori non è chiaro come reagiranno i loro figli alla vaccinazione ma abbiamo chiesto l'UMI al pediatra Leonardo Clarizio e il medico rassicura. I dubbi e i timori dei genitori sono più che legittimi, anche io sono genitore, anche se i miei figli non sono più piccolissimi. Però vi garantisco che quando i genitori ci chiamano perché hanno saputo che i loro figli hanno avuto un contatto stretto con un soggetto positivo e i timori in quel caso salgono alle stelle. E chissà perché a questo tipo di timore nessuno dà eco. Cioè noi siamo sottopassi da un anno e passa a un bombardamento di telefonate con le paure dei genitori perché i loro figli hanno contattato qualcuno positivo e di questo però non si preoccupa nessuno. Direi che ci vorremmo un po' più di equilibrio nel considerare i timori di tutti. Sentiamo ora le ragioni della contrarietà di alcuni genitori alla vaccinazione dei figli e le rispettive motivazioni. A rispondere ad ogni perplessità sarà direttamente l'esperto. Alla domanda cosa penso io del vaccino sia degli adulti che dei bambini io non ho una risposta. La vorrei questa risposta dalla comunità scientifica in maniera unanime. Francamente invece nella nostra categoria non ricordo in precedenza un orientamento per quel che riguarda misure sanitarie da adottare così omogeneo come quello che stiamo vedendo nei confronti del Covid. Escludendo ovviamente delle eccezioni che ci saranno sempre. Insomma non vogliamo nemmeno un consenso come dire bulgaro. Stavolta io vedo che tutte le società scientifici dei pediani sia a livello internazionale che in Italia raccomandano la vaccinazione anche dei bambini. Quindi non vedo io tutto questo dissenso. No, non vaccinerò mia figlia nella maniera più assoluta. Mi fido e mi affido a illustre uomini e donne di scienza come la dottoressa Gismondi, Crisanti, la dottoressa Mari, il dottor Malone che assolutamente sconsigliano di vaccinare i bambini. È vero che Crisanti aveva espresso un giudizio dubitativo inizialmente perché si era conoscenza soltanto dei bassi numeri dei bambini arruolati dalla sperimentazione iniziale che aveva coinvolto soltanto poche migliaia di bambini. Però quando abbiamo conosciuto i numeri dei vaccinati in Israele e negli Stati Uniti questo numero è salito a qualche milione e anche il professor Crisanti mi sembra abbia sloganato pienamente la vaccinazione dei bambini. Per quanto riguarda invece gli altri personaggi, io li ritengo non completamente attendibili perché si sono resi autori di determinate, di alcune contraddizioni se non di fake news nel passato, quindi non so fino a che punto possiamo affidarci a loro. Se avessimo un parente se non un figlio malauguratamente colpito da una patologia oncologica noi affideremmo la salute di questo bambino a una persona come il professor Locatelli che attualmente presiede l'Istituto Superiore di Sanità, la Commissione Superiore di Sanità, oppure lo affideremmo a uno di questi nomi che lei ha nominato. E allora se il professor Locatelli adesso consiglia la vaccinazione a tutti i bambini compresi perché devono sorgere tanti sospetti. Se mio figlio io non lo farei vaccinare perché non ci sono ancora studi sicuri e sufficienti che mi danno la sicurezza, almeno una pseudo sicurezza che il bambino non possa poi precipitarsi a vita con una grave malattia a seguito del vaccino. Visto che comunque con gli adulti sono successi anche con i giovani, molto giovani di 13, 14, 15 e 16 anni, si capisce che per i bambini piccoli questa sicurezza non c'è. Dopo aver visto che si sono vaccinati 5 milioni di bambini dell'età 5-11 anni, per parlare di quelli dei dati che vengono da Israele e dagli Stati Uniti e dopo qualche miliardo di vaccinazioni di tutte le età in tutto il mondo, parlare di vaccini sperimentali, mi sembra un po' eccessivo. Io non mi ricordo, ovvio non sono forse preciso in questo, però non mi ricordo di altri farmaci o vaccini assunti da così tante persone in così poco tempo nel passato. Quindi insomma io direi che la sperimentazione è ampiamente avviata e insomma non mi sembra che siano ancora da definire in fase sperimentale se dopo tutti questi vaccinati si siano registrate così pochi effetti collaterali insomma. Io da neomamma direi gli adulti sì, i ragazzi sì, i bambini no. Nel passato è successo che si è avuta notizia di un caso di un bambino morto per meningite e in quel caso si è scatenata una bagarra di ricorsa verso la vaccinazione. Adesso perché dobbiamo minimizzare questi pochi casi di decessi per Covid? Non potrei mai fidarmi di un medico che prende un incentivo economico a bambino a vaccino effettuato. Tanto per cominciare io come gli altri colleghi di Conversano abbiamo deciso di non fare nello studio le vaccinazioni ma di partecipare alle vaccinazioni nelle app organizzate dell'ASD e quindi non percepiremo un intensivo a dose tutt'al più riceveremo un incentivo orario che diciamo è un minimo che credo che qualsiasi persona decida di fare un lavoro straordinario ha il diritto di richiedere. D'altronde finora noi pediatri della scelta non abbiamo percepito un centesimo perché non siamo stati ancora coinvolti nelle vaccinazioni fino a questo momento e pure le abbiamo consigliate sempre a chiunque. Qualche giorno fa diceva lo stesso ministro della salute Speranza che quello dei vaccini non è un tema da social network quindi come si può convincere gli scettici? Quali argomentazione proporre loro per far sì che si affidino alla scienza quindi in questo caso ai pediatri? Con i dati a disposizione ci dicono che se un bambino non si vaccina avrà sicuramente una probabilità più bassa rispetto all'adulto ma reale di avere dei sintomi gravi se viene contagiato dal virus. Questo se non soffre di patologie croniche nel qual caso invece il rischio è notevolmente maggiore. Se invece si vaccina quindi sull'altro piatto della bilancia il bambino avrà una probabilità dell'ordine di 3 su 100 di avere qualche sintomo lieve tipo il dolore locale nel punto di inoculazione o la febbre per 1 o 2 giorni e di 1 o 2 casi su 100 mila vaccinati di avere un effetto collaterale di maggiore entità che però è del tutto curabile. Mi riferisco ai casi di miocardite che sono stati denunciati. Vaccinare i più piccoli quanto è utile contro le varianti, specialmente in queste settimane che si sente parlare tanto di variante Omicron? Vaccinare i più piccoli è utile quanto è utile vaccinare i più grandi, nel senso che è la diffusione del contagio a determinare la comparsa delle varianti. Più contagi ci sono, maggiore la circolazione del virus, più probabile è la comparsa di nuove varianti. In questa fase quanto è importante mantenere un rapporto con il proprio pediatra? Diciamo che i pazienti li potrebbero rispondere ancora meglio, cioè se voi gli chiedeste se non aveste in questo momento il pediatra di libera scelta a cui far riferimento per tutto quello che serve alla salute dei bambini, che cosa fareste? Io credo che il disagio aumenterebbe fortemente in queste famiglie. Dottor Clarizio, c'è qualcosa che non abbiamo avuto modo di dire durante questa intervista e che avrebbe particolarmente piacere di comunicare ai nostri ascoltatori? Direi che in questo momento non vedo alternative al vaccino per far sì che i bambini non perdano altri mesi di scuola. Hanno già avuto un danno notevole fino ad adesso e quindi non rinuncino ad avere una vita sociale che crei presupposti per uno sviluppo psicofisico normale. Poi se accanto a questo riusciamo anche ad evitare che qualcuno finisca in ospedale o peggio, tanto di guadagnato. Io mi vaccinerei perché mi sento più al sicuro e poi io non è che porto il virus a tutti, ai miei nonni e alle persone che tengo più a cuore. Io preferisco farmi il vaccino. Sono contento di fare il vaccino perché così quando andrò a scuola potrò togliermi la mascherina per giocare con i miei amici.